La collega Quartapelle parlava della posizione del primo ministro ungherese, Viktor Orban, sull'accesso dell'Ucraina all'Unione Europea. Sono posizioni che conosco bene, collega Quartapelle. Come si sa, le mie posizioni sono differenti su questo, l'ho dimostrato, le porto avanti. Non so quanto sulle convinzioni del collega Orban incida anche una rigidità della Commissione Europea, una rigidità che la Commissione Europea ha dimostrato verso l'Ungheria, penso al blocco delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non è la stessa rigidità che è stata dimostrata verso altri paesi. Farò chiaramente quello che posso, come ho fatto fin qui per consentire che si facciano passi in avanti su una questione alla quale io credo che è il tema dell'accesso all'Unione Europea dell'Ucraina. Però mi consenta, se posso fare la mia parte, è proprio perché riesco a parlare con tutti. Cioè a me fa un po' sorridere quando la politica estera si pone scelga. Io penso invece che la politica sia soprattutto saper dialogare e saper dialogare con tutti. E penso che questo sia anche il modo per dare all'Italia un ruolo da protagonista. E se oggi c'è qualcuno che può aiutare a trovare una soluzione è perché c'è qualcuno che è in grado di dialogare. E mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore, di Mario Draghi, per il fatto che c'era una foto in treno verso Kiev con Scholz e Macron. Guardi, mi è chiaro che per alcuni la politica estera sia stata banalmente farsi fare delle fotografie con Francia e Germania anche quando a casa non si portava niente. Io penso che la politica estera non sia fatta di fotografie, penso che l'Europa non sia a tre, penso che l'Europa sia a 27, penso che si debba riuscire a parlare con tutti i 27 membri dell'Unione Europea. Come io riesco a parlare con la Germania, con la Francia e pure con l'Ungheria. Perché credo di fare bene così il mio mestiere.